Taglio del nastro per la fine dei lavori del ponte ciclopedonale in legno sul fiume Tordino, restyling completato e struttura ufficialmente riaperta al pubblico. Presente le due amministrazioni comunali di Giulianova e Roseto degli Abruzzi e lavori che hanno comportato il rifacimento del parapetto, restauro e parziale sostituzione del tavolato a terra. Provincia di Termo, proprietario della struttura, che ha fatto invece le verifiche di tenuta statica, mentre il progetto è stato finanziato nell'ambito del piano regionale del Bike to Coast. Tra le varie cose che avevamo ereditato nel 2019, in una situazione disastrosa, c'era questa importante infrastruttura strategica che collega i due comuni. Oggi abbiamo il piacere sia io che il vice sindaco di ospitare sia il sindaco che il vice sindaco di Roseto degli Abruzzi su questo ponte che per troppo tempo è stato lasciato nel più totale degrado. Grazie a dei fondi della comunità europea che siamo riusciti a intercettare e alla regione Abruzzo che ha ulteriormente stanziato 168 mila euro, siamo riusciti oggi a regalare ai tanti cittadini di Giulianova e Roseto, ai tanti turisti, la possibilità di spostarsi tra le nostre due comunità senza utilizzare la macchina, ma utilizzando la bicicletta oppure facendolo a piedi. Un grande ringraziamento all'amico e sindaco Ivan Costantini, vice sindaco Lidia Albani, che istituzionalmente e in maniera ufficiale hanno inteso allargare questo momento di festa, di gioia, ma anche di progettazione verso il futuro al comune gemello, fratello, vicino che è quello di Roseto. Noi in un periodo in cui si distruggono ponti nel resto del mondo purtroppo, non solo in Ucraina, sappiamo che sono oltre 160 le guerre in tutto il mondo, oggi inaugurare o riaprire in maniera sicura, come diceva bene il sindaco Costantini, un ponte oltre ad essere un messaggio riguardante il turismo sostenibile, riguardante la mobilità sostenibile, riguardando la vivibilità, quindi un servizio sia ai turisti, ma anche ai tanti cittadini dei nostri comuni che, avendo dei rapporti strettissimi, parentali, lavorativi, ma anche di poter vivere un turismo divicinato, oggi più che mai hanno bisogno di momenti del genere.